Sicuramente la mare in bocca c'è perché quando riesci ad andare in vantaggio devi gestire meglio la situazione. Noi invece secondo me lì sono tornati i vecchi fantasmi, diciamo così, perché su una palla che avevamo noi abbiamo preso una ripartenza, abbiamo preso questo calcio d'angolo dove poi è arrivato il rigore. Nel primo tempo non siamo partiti benissimo onestamente, i primi dieci minuti loro meglio di noi, poi la seconda parte del primo tempo abbiamo fatto bene dove abbiamo avuto due o tre occasioni per fare gol, due occasioni da quello che ho visto io abbastanza clamorose. Poi quando non fai gol logicamente la fatica si fa sentire, però nel secondo tempo abbiamo preso questo rigore, siamo andati in vantaggio, poi è arrivata l'espulsione di Speranza che un pochettino i piani li ha scombussolati. A te che ti fai domenica prossima che ti farà la partita della vita per il termo? Io alleno il termo e quindi devo e assolutamente dobbiamo cercare di fare la partita della vita perché a noi servono i punti. In questo momento non mi sembrava neanche giusto buttare la croce addosso a Ivan perché ha fatto un errore, lo so anche lui ha chiesto scuse.